A 75 anni da una delle più grandi sciagure della Seconda Guerra Mondiale, che portò all'esplosione della motonave Caterina Costa nel porto di Napoli, l'autorità portuale promuove una giornata di commemorazione. Era il 28 marzo del 43, quando la nave da carico, pronta a salpare per il Nord Africa, esplose causando centinaia di morti e migliaia di feriti. Una tragedia emane per la città, che oggi è stata ricordata con un convegno nella sala dione della stazione marittima e lo scoprimento di una targa in onore delle vittime colpite dalle fiamme e dai rottami dello scafo, che arrivarono a schiantarsi fino al vomero e al centro storico. Oggi ricorre il 75esimo anniversario dell'esplosione della Caterina Costa e comincia una fase molto delicata per la città, che arriva fino ai bombardamenti di agosto del 43 e poi alla liberazione di Napoli con le quattro giornate. Il porto è protagonista di molti di queste vicende, la Caterina Costa è la prima più rilevante e il porto è sempre una cartina al tornasole dell'evoluzione storica, economica e sociale dei tempi della nostra città. È così al ridosso della città che parte integrante della storia stessa. E quindi ci è apparso opportuno, assieme alle istituzioni, ricordare questo momento che è un momento un po' trascurato nella storia della Seconda Guerra Mondiale. Io credo invece che è molto rilevante capire quali sono i passaggi fondamentali e anche quali sono le lezioni che possiamo imparare da quell'evento. Quell'evento fu un evento anche di trascuratezza e di sottovalutazione del rischio, della pericolosità e poi si determinò quella grande tragedia che ha portato alla morte di tante persone. È importante ricordare il sacrificio, è importante ricordare la storia della nostra città, è importante ricordare la cantiristica della nostra città, quello che tante persone hanno dato per il mare nella nostra città e ricordo serve anche per rinnovare l'impegno perché questa città sempre di più sta riscoprendo il mare.